Oggi faremo la cosa più top del web. Spaccare cose. Spaccare cose! Yeah! Pressa idraulica. Vecchio cellulare gentilmente concesso da Albain. Avviso di non provarci a casa. Ora basta chiacchiere. È il momento di... Spaccare co... Il microprocessore mi serve per un'invenzione. Scusa, eh? Grazie. Pressa idraulica. Macchina fotografica che scossa non usa da anni. Avviso lampeggiante. E ora... Fermo! Ripensandoci, il vintage sta tornando di moda. Guardate i miei video. Pressa. Brutto vaso trovato qui per terra. Scritta. E ora, finalmente... Ecco dov'eri. Tu che nel tempo della tua vita trascorsa hai certamente custodito ceneri di uomini mirabili, di grandi poeti, di animi tormentati e cuori spezzati dalla durezza della vita. Una nocce di cocco. Lo so, però almeno finalmente nessuno... E per oggi è tutto. Stupida pressa. Mi sa che è rotto. È rotto. Yeah! Spaccare ossa! Yeah! Qui per il prossimo video. Qui per iscrivervi al canale. Là per attivare le notifiche. E scrivete se volete un altro spaccare cose sballoso.